Il prossimo brano è sempre del maestro Marco Maio, abbiamo proprio voluto iniziare così con la dolcezza e sul volo chiaro, sul volo chiaro che rappresenta un po' il nostro cammino della vita è il cammino della vita dove i ricordi diventano una bossa, un contenitore dove talvolta aggrapparsi perché proprio in certi ricordi che magari ci scappano sorriso, quando ci si ritrova tra amici che non ci si ritrova tanto tempo, i ricordi sono eleganti della nostra vita, del nostro modo di stare insieme e noi che siamo un coro di montagna e rappresentiamo la montagna, con questo canto cerchiamo di mettere insieme questi due aspetti, l'armonia di questi ricordi, del sorriso di questi ricordi e di queste voci voci di montagna sentirete, voci che sono una storia d'amore, una storia d'amore non si sa se per qualche cima, qualche vetta, per i posti oppure per qualche amato, questo non è tanto sapersi, ognuno di noi ha il suo amore e ognuno di noi guarderà con gli occhi dell'amore le note che sentirà sul volo chiaro. Grazie. 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 Grazie.